Sono sassata, quindi comunque in stanza ancora diversamente giovane che c'è. E qualcuno mi ha detto, ah però sei un giusto gioco, con l'età, con l'età, con l'età, io credo che non ci sia l'età, forse è l'occasione, il momento. Io mi ringrazio davvero perché poi questo riconoscimento in qualche modo, poi non va solo a me, io sono un po' il portavoce di una sorta di movimento, che pensa, per esempio, così perché ce l'avamo già confrontati sugli ioguri, per dire la verità. Quando scade lo ioguri, non è che arrivano a un minuto di 10 miliardi di lacco, bacillus, miliaricus, perché questi sono i fermenti, si suicidano contemporaneamente, ma vanno abbastanza nettamente, e adesso io non posso dire una sede istituzionale, però si può andare, oh, tu hai anche dato una data, ecco, io vorrei stare più attento al tuo posto, perché poi se c'è l'istituzione dell'asco, con la sicurezza alimentare non dobbiamo scherzare.